Il Bari festeggia il Natale in vetta più 7 sul Monopoli, lo fa grazie a una vittoria in inferiorità numerica contro il Potenza, arrivata proprio dopo essere rimasti in 10 per effetto del Rosso Scavone. Di Antenucci e Del Rico, entrambe dal dischetto, le firme sulla vittoria del San Nicola. Le formazioni, davanti a 6.500 spettatori, Mignani ne cambia 3 rispetto alla partita pareggiata domenica scorsa a Palermo. Gigliotti prende il posto dello squalificato, Terranova, Ricci e Scavone si fanno preferire a Mazzotto e Mallamo. C'è Botta alle spalle di Papone e Antenucci, tra esclusioni e squalifiche, quelle di Ricci e Sepe, coperta corta per Trocini, 3-5-2 per il Potenza, con la coppia Romero-Salvemini in attacco. Potenza subito pericoloso con Coccia, che tira dai 22 metri, Frattali controlla. Con il passare dei minuti sale l'intensità del Bari, Botta sfonda centralmente al diciottesimo, il suo tocco è un assist per Scavone, destro di prima intenzione, deviato da Matino, che salva la porta ospite. Ruben Botta, tra i più ispirati in casa Bari, scuote il San Nicola con un sinistro dai 25 metri, traversa di Greco. Sfiorata, partita molto nervosa, con l'arbitro Carrione che dosa l'uso dei cartellini, scelta sgradita al Bari. Nel finale di frazione entra in gara Derrico, slalom gigante tra quattro difensori, ingresso in aree, diagonale destro, palo sfiorato, a Greco battuto. Mignani lascia negli spogliatoi uno spento Paponi per Chedira. Il Bari riparte attaccando all'arma bianca, Chedira protesta per un contatto in area con Maestrelli, poi calcia con il destro, diagonale, deviato in angolo da Greco. All'ora di gioco la partita sulla carta si complica per il Bari. Ricci crossa da sinistra, Scavone va giù in area dopo un presunto contatto con Zagaria. Carrione va dritto verso il centrocampista, bianco-rosso già ammonito, secondo giallo tra le proteste, Bari in dieci. Nel momento più complicato gli uomini di Mignani vanno avanti nel punteggio. Maitas radica un pallone a centrocampo, apre in profondità perché Dira che entra in area, punta piana e va giù sul tocco dell'avversario. Calcio di rigore, Antenucci è una sentenza, spiazza Greco e fa 1-0, decimarete in campionato per l'attaccante a quota 199 in carriera. In svantaggio il potenza cambia e va all'attacco con Volpe per Maestrelli, un destro di Salvemini deviato da Pucino, mette i brividi a frattali. Il Bari trova però Praterie in contropiede, ancora Chedira lancia Derrico in campo aperto, il numero 14 salta Greco che lo stende, rigore. Se ne occupa lo stesso Derrico, il risultato non cambia, Greco spiazzato e 2-0 Bari. Salvemini è l'ultimo a mollare nel potenza, frattali vola a deviare sul suo tentativo di destro. Vittoria numero 13 in campionato per i biancorossi che volano al 2022 da primi della classe.